Oggi, 29 febbraio, la giornata dedicata alle malattie rare. Sono 40.000 pazienti in Lombardia, ma altrettanti ne sarebbero affetti senza saperlo. Ma adesso è appena passata una persona che cercava un referente, qualcuno, per sapere a chi rivolgersi, per avere poi informazioni riguardo alla malattia rara. 29 febbraio, giornata rara nel calendario e dunque significativa per ospitare la giornata mondiale dedicata alle malattie che colpiscono meno di una persona ogni 2.000, ma di cui si contano più di 7.000 forme diverse. 16.000 ai Lombardi colpiti, al Policlinico di Milano, principale presidio della rete regionale, con 262 malattie rare gestite da 63 specialisti, volontari e medici hanno informato la gente, perché saperne di più e sapere prima è davvero utile a tutti. Sono un genetista e quindi per me un po' la missione, tra virgolette, è quella di aiutare le persone a capire come si può aggirare il rischio genetico. La consulenza preconcezionale per chi pensa di avere rischi genetici è fondamentale. Tanti traguardi finora raggiunti, ma le nuove sfide, ora che molti malati approdano all'età adulta, non mancano. L'immissione nel mondo del lavoro, ma anche lo sviluppo di una vita familiare, di una vita sociale, di una vita affettiva e uno dei problemi che affrontiamo oggi è la gravidanza, la procreazione nel soggetto affetto da malattia rara. Possiamo contare su questi presidi che prendono in carico i pazienti, che quindi fanno questi passaggi e che quindi ci permettono appunto di avere questa progettualità. Esperienze che devono fare scuole, perché questo accada, occorre una collaborazione tra medici, pazienti, istituzioni e territorio.